Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A15, 8 km di coda tra Ulla e l'allacciamento con la 12 verso la Spezia. Code in uscita a Pontremoli e in uscita a Ulla, entrambe provenendo da Parma. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze e Impruneta e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, rallentamenti tra il Bivio con la variante di Valico La Quercia e Aglio e tra Barberino di Mugello e Firenze e Impruneta e code a tratti tra Firenze Sud e Cisareggello. Spostandoci sulla A12, code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e la diramazione di Livorno in entrambe le direzioni. Code per il traffico intenso alla barriera di Rosignano in direzione Sud. Sulla statale 223 di Paganico, rallentamenti tra Bagni di Petriolo e Casaldipari e tra Paganico e Montorsaio in direzione Grosseto. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!